Cotto? Cotto? Che cazzo? Non è il procino? Eh! Un buon vento! Non si può spero! Cotto? Ma che vuol dire che prima o poi ci sarà un addebito sul contorno? Il contorno principale? Questo, eh? Rocco? Ma è questo, ti hanno detto? Ma dov'è? Quello che gli ho chiesto stamattina? Eh, ok, ok. Quello che gli ho chiesto io oggi è tutto inutile che metto in mezzo loro. Era una cosa del giugno. Eh... Era sul...